Io parlo per me adesso, in questo momento sono assente da quasi 7, 8, 9 mesi dai palchi, a voi i miei motivi, sono sempre stemalè, sono un cliente face dell'OSL, e tant'è vero che lo spettacolo di quest'anno verterà soprattutto sull'OSL, sull'essere malati, avere dei problemi, andare all'ospedale, l'idutore, eccetera, mi imposto a parlare perché a me ho avuto quante sfatture, sette interventi chirurgici, due strappi e legamenti, ho fatto tersente digest, ho tante dolore, ho avuto un inferno, una colica renella, manca il diabete, mi hanno fatto liberare la targa e tutto, e mi hanno dato un racconto in tilt. Per il resto funziona tutto bene, e vorrei parlare politica, e politica ne parliamo mai più, e parliamo solo della salute e della sanità, e adesso la chiamiamo più sanità, la chiamiamo Anitta, perché a De Lorenzo e Compagni hanno rubato l'aceto, hanno rubato tutto, le mie più la stessa cosa è per me. Sono stati tutti quanti al dottore a fare il check-up, chi l'ha capito il check-up, l'hanno di comprare una bottiglia di Pondorcol per il patatino, perché capisci di... Facciamo di fare la figura da stoppia, questo. Hanno successo tutti coloro, basta dire che a me, quando sono andato al dottore, mi ha detto che con il polistirone, con il polistirone, con il polistirone, con il polistirone, con la città, tutti i lavori che avevano anche l'ampasecchia, mi ha detto di smettere di bere, di mangiare, di fumare, e di cantare, mi ha detto anche di cantare, mi ha detto, non ti chiedere che ti vedrai che la voglia di cantare la passa. Poi dopo mi ha detto, niente sesso, mi ha detto che andrà a Santa Vittoria, se io che mi stai a Viadana, un ragazzo alla slant, mi ha da ridere. Poi dopo, a give un po' di aerofagia, mi ha detto che devo fare i venti, mi ha detto, tutt'ora andare a Viadana a fare i venti, ma d'ora, insomma, a posto, mi ha a fare i venti. Mi ha detto tutti coloro, la lettera del mi ha detto che sono in continente, adesso, ora in agosto, vado in Sardegna e provo a dire che sono in continente. Siete bene. E manca a te il colesterolo, ma il solo perché. Io ho lavorato con un zaino in ceramica, a Feva l'interprete, a lavorare con colestero, e mi ha detto il colesterolo, è l'enorme, no? E dopo mi ha fatto, ne ha detto che la caccia mia a 3M, è un gruppo che la caccia mia a 3M, sa mi ha detto, i trigliceridi, l'enorme. E dopo un tanto cosa che ha detto al dottore a Pierron e a Franco, perché ne è successo anche a loro, prima però, vi facciamo il nostro inno di quest'anno, che è una canzone che la parla della sanità, che si chiama I maled la motua. Solo che ho un problema, ho un mio gran audio, che è insomma il PELC. È meglio se cantiamo in cuffia, possiamo cantare in cuffia? Ah, se tu vuoi, io sento benissimo. Come l'Ambra. Cantiamo in cuffia? Cantiamo in cuffia? Dai, secondo me le mie, perché è me che sento me. Non c'è niente a fare, che sono maniglia. No, non c'è. Adesso, siccome e cantano tutti in cuffia, sono un po' miei più ignoranti. Adesso è che avrei però la doccia dal telefono, che è. Beh, lì sta, sì. In maled la motua. Vai, nano, che te pago. Come sto, mia? Sei carina. Cambia, riforma, e torna a riformer. Cambia il nome al signor, il la la, però non vengi in davvero. Non vengi in maniera. Non vengi in maniera. Non vengi in maniera, ma non vengi in maniera. La salone, le mie, è tutta molte di mondia, finch'la che, tec de mai, ha il suo valore. Ma, se la tvina, manca anche un pinna gamba, quando attacca a fare la spola dei tutor. Arrisati in tutti i pini e girogleffi, guarda che se il nome le sei impere sbagliere, al mette in i sei verpini e controindicazioni, se ti fanno bene al corte e sgane nel polmone. Se la moto alla ti passa, accoste in lì rettiamo, se invece mi apprevesti all'ora di io. E quando un giorno finalmente toccate per farles amagvol, quattordes, doppes, dì. Nota, prenota e torna a prenoter. So mi male, la moto alla lì 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 lì, che s'vanno a fer cooper. Io spedei, spesso s'angagna l'ambulanza, e onde svolti soddisfi, ad manti in tre. Se te c'è per il tuo segno o per il mio panse, le dimonti se ti vanno fuori a cui toppi, a te sbatteni in quattordes in la stanza, dove chi tu vive a stare più o meno sei. Se alla notte o alla festa, ad capitano urcini sa per telefono, loro ti vogliono visitare. E se dopo ti vanno caotto e scappa la pazienza, poi succederà che ti mandano a cagare. E se la si è un... Us, ims, pup, ticcetetac, rum, saubat fannir ma di insemini come al gareini. Us, ims, pup, ticcetetac, rum, saubat tanti da anche quaresgnacun al mezzaini. Us, ims, pup, ticcetetac, rum, saub per prenoter les amagvol des dotmateini. E quando un giorno è in fine al mezzo tocca a te, per fare l'esame a quals quattordes dot mesdè. E ha risultato al vimpotore al venerdè, mo' il professore al che, al sabbet dot mesdè. O forse al lunedè, a creda al martedè, o forse al giovedì. E se fra avanti a c'è. Cambia, riforma e torna a riformè. Cambia il nome al sicchi, la riforma e la riforma e la riforma. Per un gale linda a fer. Nota, prenota e torna a prenoter. Son mi maledà, mo' la riforma e la riforma e la riforma. Grazie. Grazie. Grazie.